intanto vediamo enjoy cacciucco e questo è già tutto un programma da questo si capisce che siamo a Livorno e cacciucco dove dovrebbe essere però questo enjoy cacciucco pesce fresco beh insomma è un po' del del sospetto vedremo di indagare di più tra l'altro si fanno strani incontri qua in borgo cappuccini a Livorno vediamo vediamo ecco io a questo punto non mi sento più tanto sicura e tanto tranquilla per questa per questo pomeriggio livornese di tranquillità post quarantena anzi settantena vi sembra una cosa normale incontrare in borgo cappuccini un dinosauro un tirannosauro anzi mi sembra un tirannosauro rex io proverei a intervistare direttamente lui ma non so se ha voglia di parlare allora facciamo una cosa intervistiamo chi l'ha creato adesso lo vedremo e mi sembra che questo dinosauro abbia anche una coda ancora da da costruire oppure oppure da mettere appunto e lo lo chiediamo al suo creatore al suo ideatore ecco a vicino a me vicino a me si fa per dire perché dobbiamo stare a un metro di distanza stefano pilato che al quale vorrei sapere innanzitutto è un tirannosauro rex si confermo è un dinosauro e forse il più il più temibile nel momento dell'attacco ai predatori e quindi sì è un tirannosauro rex al quale non ho ancora trovato però un appellativo adeguato forse covid tirannosauro rex dato che è nato durante appunto il periodo della quarantena e ancora non è stato terminato siamo in fase finale quindi non vedo l'ora di finirlo sinceramente perché il lavoro è stato molto complicato lo immagino lo immagino e tra l'altro tu crei delle cose incredibili che dopo vedremo anche quelle ma come ti è venuta questa idea avevi da ingannare il tempo lo immagino perché purtroppo il virus ci ha tenuti tutti bloccati ma pensare a fare un dinosauro in borgo dei cappuccini un tirannosauro addirittura come ti è venuta in mente è stata una richiesta per fortuna c'è stata fatta durante appunto il periodo del covid quarantena e mi ci sono buttato a capofitto proprio per ingannare questo momento diciamo di anche di solitudine questo però mi ha permesso di lavorare in tranquillità nel mio studio e realizzarlo fino a un certo punto all'interno e data la mole rifinendolo poi all'esterno proprio per strada ecco per strada senti e le persone quando passano e vedono questo tipo insomma è un attimino inquietante di solito sorridono rimangono colpite perché non se lo aspettano magari appunto arrivando soprattutto con la macchina con lo scooter te lo trovi davanti quindi reazione un po così di sorpresa rischiata anche un paio di tamponamenti perché la gente ha frenato di scatto e quelli che li mettono in conto speriamo di no potrei mettere in conto tutte le foto che gli stanno gli sono state fatte fino adesso un euro a foto sarebbero un 5 600 euro sinceramente sì perché è stupendo perché è una cosa incredibile l'hai realizzato tutto con del materiale diciamo di riciclo sì prevalentemente sono pezzi di scooter di motorini di moto che ho recuperato un po in giro per la città nonostante il deserto che ci ha sì sono riuscito insomma realizzarlo alla fine in un paio di mesi usando ripeto pezzi di scooter e di altri di altri materiali tutto ovviamente recuperandolo quella pensate un po pezzo pezzo per pezzo è riciclo perciò pensate che cosa si può fare con le cose che a volte si buttano senza neanche pensarci però qua abbiamo parlato di scooter di motorini di pezzi di riciclo entriamo nel tecnico a questo punto io lascio la parola a luca pistolesi che di motori motorini eccetera e scooter e mezzi ne sa molto più di me e vediamo di scoprire qualche segreto che è servito per realizzare questo questa meraviglia questa scultura questa opera d'arte vediamo l'artista stefano al lavoro nella costruzione nella finitura della del suo capolavoro perché questo è un veramente un capolavoro e ne approfitto appena finito di stringere le viti di avvitare le viti con il trapano per fargli alcune domande di io che sono appassionato di meccanica e varie senti stefano ma queste parti sono state solo avvitate con le viti o anche con i con i rivetti sono state anche rivettate no questo è un lavoro fatto esclusivamente con delle viti all'incirca sono 7 700 viti che una per una ovviamente ho avvitato assemblando tutte le parti e ci sono delle parti mobili oppure sono tutte statiche ferme oppure sono degli arti o dei movimenti nella nella struttura no è totalmente statico è un lavoro che ha richiesto ovviamente una struttura interna per poter sostenere poi tutto tutta l'opera e la parte mobile è solamente quella sulla sulla base quindi potendolo spostare su delle ruote quindi io vedo che hai dovuto fare anche del non ottimo lavoro di lattoneria di carpe soprattutto per modificare per adeguare alle forme non certamente spigolose che l'animale rappresenta hai dovuto lavorare di martello di pianelle no tipo lattoniere sì sì questo però è un inganno apparentemente sembra fatto in metallo ma è tutta plastica e quindi è stato più che altro un lavoro di colorazione cercando di creare poi una finitura che somigliasse al metallo appunto magari logoro magari già già consunto e quindi con questa con questa questo inganno sono riuscita a dargli ancora più rilievo dal punto di vista dell'imponenza ma comunque se comunque sia un lavoro di lattoneria anche se su plastica c'è stato chiaramente comunque anche se sono di plastica i particolari i pezzi comunque sempre un lavoro di lattoneria è dovuto fare sì direi di sì appunto al di là del metallo della plastica come materiale da lavorare il lavoro è stato quello di individuare i pezzi più adatti a creare una parte anatomica specifica e quindi provare dei pezzi che all'occorrenza potevano andare così di prima chito ma che poi sono stati dovuti appunto sono stati adattare alle varie parti quindi qui si parla anche di bauletti di scooter di carenature questo è un parabrezza di uno scooter quindi inizialmente è un pezzo di tvc in plastica trasparente che assemblato poi a un bauletto sempre di uno scooter è venuta fuori la parte della nella zampa della parte alta della zampa vedo anche un carter dove dove i carti dove dentro c'è la distribuzione o la degli scooter esatto poi c'è un carter copri marmita che è la parte superiore c'è un serbatoio forse l'elemento più caratterizzante da qui effettivamente sono partito per individuare la testa che è un serbatoio di una moto che mi porto dietro da tanto tempo sapendo che poi prima o poi l'avrei usata per qualcosa di importante e la coda ecco diciamo che la testa e la coda sono state le due cose iniziali da cui è partito il tutto la coda ci tenevo a usare quel quel cono che viene usato di solito per i lavori in corso perché mi piaceva questa interruzione cromatica complementare al verde del del dinosauro e la parte finale è un praticamente la parte di un porta ombrello telescopico di quelli che vengono usati per non far cadere le gocce quando l'ombrello è chiuso complimenti complimenti perché veramente una meraviglia e soprattutto lo dico con tanto tanto orgoglio stefano una persona particolare come un po tutti noi italiani siamo e in questo momento in tutte le manifestazioni che abbiamo che abbiamo visto in televisione noi italiani siamo stati alla ribalta e te stefano fortunatamente fai parte di quelli italiani con tanta che ha tanto impegno inventiva intelligenza intelligenza e saper fare questa è la nostra forza complimenti stefano hai fatto veramente un capolavoro